Io penso che ci devono abbracciare persone o pesci. Ci sono tanti fratelli che i pesci hanno abbracciato. Noi siamo abbracciati dalle persone, ma tante di queste persone non ci vogliono. Buon divertimento a tutti e via i mondiali antirazzisti 2019! Usiamo il calcio come strumento contro il razzismo, il sessismo e tutte le discriminazioni. Ci siamo ritrovati finalmente. Nicola Diego, Nicola! Bravo! In Italia c'è il razzismo.